La piazza Marconi, antistante la vecchia stazione ferroviaria di Milazzo, cambierà volto grazie ad un intervento di riqualificazione previsto nel piano di rigenerazione urbana dell'amministrazione Midili. Intervento che avverrà entro fine anno grazie alle risorse già disponibili. Lo annunciò il sindaco illustrando anche le linee fondamentali del progetto redatto dagli uffici comunali col supporto di professionisti milazzesi. Un progetto che trasformerà l'area abbandonata da tempo è pericolosa visto che gli alberi hanno fatto saltare il marciapiede rendendo praticamente impossibile il transito dei pedoni in uno spazio vivibile grazie ad una nuova concezione degli interventi che verranno posti in essere. Una progettualità che segue gli standard previsti dalla nuova generazione del restyling di piazze e aree pubbliche. Sarà ad esempio installato un Wind Free, albero del vento, che produrrà energia solare ed eolica che sarà utilizzata in parte per illuminare la piazza ed in parte destinata alla nuova struttura che verrà fuori dalla riqualificazione. Altro obiettivo dell'amministrazione della vecchia stazione ferroviaria. Sempre nella piazza, che avrà una nuova pavimentazione drenante, saranno posizionate anche delle panchine smart, dotate di prese USB che presentano un sistema di rotazione per consentire il loro spostamento nella stradina adiacente, quando si terranno ad esempio delle iniziative pubbliche e verrà quindi interdetta al traffico. Saranno previsti l'impianto di videosorveglianza, la collocazione di colonnine per la ricarica elettrica dei mezzi e l'installazione di giochi d'acqua. L'intervento si raccorderà poi pure con la rifunzionalizzazione dell'intera zona e quindi non solo la vecchia stazione ferroviaria, ma anche l'ex scalo ferroviario, che di recente è stato acquisito dal comune e che dovrà diventare non solo un parcheggio al servizio della città, ma anche il parco urbano di Milazzo.